Ecco Michele Cucuzza che lo vedremo sfrecciare sullo stretto con il suo windsurf, ma a parte la battuta vedremo... C'ho il mio windsurf qua eh? Questo per noi è un orgoglio. La mia bella villa è tutto. Però dal 19 al 24 di aprile vedremo sfrecciare diciamo i migliori windsurfisti di tutto il mondo. Quelli che noi invidiamo. Ecco, come ti è nata la passione del windsurf? Ma niente, era molti anni fa quando ero ovviamente un ragazzo, ero in Corsica, si va al mare, vedi che c'è uno, un istruttore, e ho cominciato. E poi non l'ho più smesso, anche se non sono mai diventato un grandissimo surfista. Però mi piace molto, come dicevo, perché è davvero uno sport pulito al massimo, perché non sporca, non inquina, è meraviglioso il vento, è meraviglioso il contatto con l'acqua. È bello anche quando uno cade, perché quante volte ci tuffiamo e ci divertiamo. E allora se capita perché uno non è capace magari un momento, è divertente anche quello. Ecco, diciamo per Reggio Calabria e la Calabria Tutto, tutta è un momento importante di visibilità notevole, per cui è una bella carta che si gioca alla città. Secondo me sì, è vero che è un momento difficile per tutti, i soldi sono quelli che sono dovunque, al nord, al centro, al sud, in certe località, naturalmente in certi luoghi, è più difficile. Però avere il coraggio di scommettere su una cosa di questo genere è ammirevole, è questo quello che provo io. Ammirazione per giovani come Roberto Raffa e per le istituzioni che gli hanno dato dal CONI, naturalmente alle istituzioni politiche, dal sindaco al governatore, alla provincia, che hanno dato fiducia in questo. Perché non c'è dubbio che qui funzioneranno due cose. La prima cosa ci sarà un ritorno economico, turistico, di nome, non ci sarà più soltanto nel giro internazionale, che ne so, le Calarie. I surfisti di tutto il mondo sapranno che possono venire con le loro famiglie, eccetera, eccetera, a Reggio Calabria. La seconda cosa, finalmente notizie positive. Non è la prima volta, ci mancherebbe altro. Però è vero che spesso l'opinione pubblica lamenta il fatto che accanto alle giuste informazioni, spesso a rischio, i cronisti rischiano certe volte quando si danno le informazioni sulla criminalità organizzata e l'ottimo lavoro che stanno facendo le istituzioni contro, però bisogna dare notizie anche positive. Beh, questa è un'occasione straordinaria, secondo me. Un'occasione straordinaria, ripeto, perché non è soltanto per gli addetti ai lavori, riguarderà l'intera città, perché sarà coinvolta, abbiamo visto, con una serie di manifestazioni accanto. Il lungomare è meraviglioso, è bellissimo poterci stare anche solo per guardare e così via. E quindi, secondo me, c'è un riscontro notevolissimo positivo. Finalmente, veramente, l'occasione giusta. E ripeto, io personalmente, nel mio piccolo, mi impegnavo in questo senso, ma ho già sentito che anche i colleghi calabresi lo faranno tutti. Quindi un ruolo, quello di Michele Cucuzza, da testimonio al supporto. Sì, certo. Un po' perché è nata così, perché io sono un, come si dice, un surfista, come dice, evergreen, vogliamo usare questo termine, evergreen. E poi perché sì, mi sento direttamente coinvolto come giornalista, ovviamente. Grazie.